Come ti chiami? Cristian Trivieri Giuseppe Che ruolo giochi? Giuseppe Lascia Sinistro E tu? Cominci il poliziere Gioco attaccante destro Io mi chiamo Alberto Alberto Filippo e gioco attaccante Mi chiamo Federico Scalise e gioco il trenzino a sinistro Quanti anni avete più o meno? Dieci No Mi chiamo Alessandro Lucanti e gioco in attacco e ho nove anni E che un ricordo popolo si offrì E quanti anni hai? Io otto Mi chiamo Alberto Berberio Come ti chiami? Alberto Berberio, porto Giovanni e gioco ma terzino a destra Deve pensare E quanti anni hai? Mi chiamo Antonio Fiorino e gioco terzino a destra e ho otto anni Bravo Mi chiamo Alberto Barberio e gioco a cento anni cento anni Quanti anni hai? Dieci Tenta e venti Mi chiamo Luca Petrona e gioco a terzino a sinistra e ho dieci anni e ho dieci anni e ho dieci anni e ho dieci anni E che gioco a terzino a destra e ho dieci anni E ho dieci anni Quanti anni hai? Nove Mi chiamo Emilio Adem e gioco cento campista e ho nove anni Mi chiamo Giuseppe Valente gioca attaccanti e ho nove anni Prova Giuseppe Ultimo Mi chiamo Rosario Cellaro e sono terzino a destra e ho dieci anni Ah sempre più grande Complimenti Con chi giocate oggi? Bocaio Bocaio Mi diceva Franchino che è la vostra prima partita Sì Ma Franchino non è il vostro mister? Sì Non è Martino? No Ah Franchino Non ho capito male Che mi avevamo detto Martino Solo Franchino? No Ah Franchino e Flavio E chi è più bravo? Franchino o Flavio? Flavio Flavio No Franchino Che è il più bravo? Franchino Franchino Quindi a destra è Franchino e poi Flavio Allora Alzate la mano a chi vota Franchino Quanti sono? Giusto Giuseppe? Conta quanti sono che votano Franchino Io no Io ti sono Sette Lui l'ha contato Adesso Flavio A me tutti e due No Chi ha votato Franchino non può rivotare Quindi vince Franchino? Sì Ma che fa? Sei Noi ho Sei Vince Franchino Vabbè Per questa volta vince Franchino E oggi che fate? Vinciamo 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 In divisa Se non vi fa freddo Mi mettete sugli spalti Adesso fate Fate un saluto No Questo va bene Però un saluto A Calabria TV Che se riusciamo Mandiamo in onda Questo servizio Su Calabria TV Quindi fate Ciao Calabria TV 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 Grazie a tutti